Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo al controller wireless o bluetooth ragazzi oggi faremo un attimo un test riguardo al mio dispositivo wireless, quindi questa è la chiavetta che combace con il controller questo qua, questo è il controller WFAN che è veramente molto molto comodo appena collego la chiavetta wireless si collega così il controller e adesso non ci resta che provarlo quindi un attimo che vado a provarlo su un gioco ed eccolo qua quindi i miei driver di questo controller sono molto aggiornati, non sono obsoleti o vecchi quindi mi raccomando cercate i driver dei vostri controller e cercate di fare qualche aggiornamento perché come potete vedere i tasti vanno benissimo appena collego la chiavetta wireless il controller va perfettamente poi dipende sempre da che dispositivo avete quindi prima faremo questi test e poi vi spiego come risolvere al meglio un dispositivo che è dannoso oppure un dispositivo che non è aggiornato alla perfezione quindi un attimo che adesso scollego wireless e metto questa qua del bluetooth quindi chiavetta bluetooth se invece avete una scheda di rete con il bluetooth integrato anche quindi sia wifi che bluetooth state a posto quindi potete direttamente fare tutto sempre qua sopra su bluetooth o dispositivi io devo mettere per forza la chiavetta quindi ragazzi ora che collego un attimo un altro dispositivo perché il mio controller non è bluetooth ma è solamente wireless quindi devo per forza come potete vedere ho scollegato la chiavetta wireless e si è scollegato pure il controller quindi adesso che prendo un altro dispositivo devo per forza prendere le mie cuffie bluetooth così facendo per vedere se il bluetooth funziona quindi provate anche voi a fare un test per vedere o è il dispositivo oppure è il bluetooth quindi queste sono le mie cuffie one audio questo è il dispositivo studio wireless collego e si sono collegati connessioni in corso ed eccole qua connesse quindi i driver sono aggiornati i dispositivi vanno benissimo quindi non ci resta che andare un attimo su gestione dispositivi per farvi vedere una cosa quindi chiudo un attimo questo pannello vado un attimo su gestione dispositivi quindi come ho detto prima quella è la mia scheda di rete quindi se voi invece avete una scheda di rete con wifi e bluetooth cliccateci sopra perché se c'è una freccetta quella freccia in basso significa che il dispositivo non è abilitato quindi non è neanche aggiornato quindi fate in modo di attivarlo e di aggiornare il vostro dispositivo invece se avete quello bluetooth la stessa cosa se c'è un triangolo giallo vicino a questo bluetooth significa che è dannoso oppure non funziona ha problemi quindi bisogna aggiornarlo e come aggiornarlo? semplice andiamo un attimo su un dispositivo che avete collegato clicco sopra aggiornare driver cerco automaticamente i driver e li cerco in windows update ed eccoli qua faccio scarico e installo gli ultimi aggiornamenti di windows update una volta installati ragazzi riavviate il vostro pc quindi come avete visto collegare il proprio dispositivo bluetooth quindi ovviamente andiamo un attimo in basso a destra dove c'è quel simbolo bluetooth cliccateci sopra il tasto destra aggiungi dispositivo bluetooth e si aprirà così il pannello questo pannello con tutti i dispositivi tu aggiungi dispositivo se in questo caso come ho detto prima o è dispositivo oppure il bluetooth dentro il vostro pc non funziona è obsoleto vecchio quindi bisogna aggiornarlo come avete visto prima come ho fatto se invece avete come ho detto una scheda di rete con il bluetooth integrato nella scheda di rete dovrebbe andare perfettamente bisogna solamente aggiornare la scheda di rete ci ho fatto anche un tutorial su come aggiornare la scheda di rete e il cavo LAN se vi serve quindi se invece non avete una scheda di rete con il bluetooth integrato vi consiglio di comprarvi una chiavetta bluetooth funziona veramente io l'ho pagata 5 euro quella che avete visto nel video 5 euro e funziona perfettamente avete visto ho collegato le cuffie One Audio e si sono subito collegate quindi tutti i driver aggiornati niente di obesoleto e i dispositivi funzionano perfettamente quindi se questo video vi è stato utilissimo ragazzi io vi consiglio di lasciare un like iscrivervi al canale di attivare la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao